buon pomeriggio cari amici sono qui quest'oggi per presentarvi due mie fotografie che hanno preso parte agli ultimi assignment di landscape photography magazine si tratta di fotografie di montagna scattate a cervinia e a courmayeur vi condivido subito queste presentazioni partiamo proprio da cervinia l'assignamento in questione e shadows una fotografia scattata in un melanconico mese di novembre un anno 2013 molto doloroso per me ci troviamo in località campetto creta una giornata di transito di transizione tra l'autunno e l'inverno vediamo così il colore giallo lasciare la scena al candore della neve tutto attorno il freddo ha reso molto difficile questi scatti di questo portfoglio in quanto il filtro della macchina fotografica era praticamente congelato facendo scorrere le varie fotografie ho trovato questo effetto ombra che era proprio l'effetto che landscape photography magazine ha richiesto espressamente per questo portfoglio qui dietro vedete le piste creta su uno e due la uno è più in basso è riservata a chi impara a sciare quindi i principianti i bambini la seconda ha una difficoltà un po più consistente una pista media però è molto bella ora condivido a seguire la fotografia di courmayeur ecco qui siamo ad entrerbe per winter visions anno 2022 vedo questa settimana protagonista il monte bianco con le ghil noir fotografati appunto ad entrerbe un'immagine scattata appena in tempo poi arrivo al covi da spegnere queste luci meravigliose questo questo cielo così azzurro questa scena così bella in questo caso con un cielo così limpido è sufficiente la modalità paesaggio forse ancora meglio una lieve sott'esposizione con la modalità program per rendere ancora più nitida la scena qui vedete la descrizione un po della località le mie sensazioni il paragone tra l'estate e l'inverno ad entrerbe io preferisco sempre quando vado a courmayeur recarmi ad entrerbe perché io piuttosto che stare nel centro preferisco stare proprio a contatto diretto come ho scritto con le montagne per contemplare questo meraviglioso e sublime paesaggio vediamo i prossimi appuntamenti la domenica 13 febbraio ci sarà una proiezione di carnevale voglio essere io inaugurare un po le settimane il carnevale con mentone vi allego qua la locandina e eccola qui allora ci sarà un link su google meet questa piattaforma qui se avete bisogno di riceverlo personalmente potete scrivere una mail direttamente a me a questo indirizzo che vedete qui sotto citato quindi info iconista 77 chiocciola gmail.com potete riceverlo anche attraverso whatsapp potete riceverlo anche via messenger di facebook in qualche modo comunque si può sempre chiedere sarà un pomeriggio musicale accompagnato dal melodie di sensan con il famoso carnevale degli animali e non solo eseguiti da george preto quindi vedete tutto proprio alla francese io vi ringrazio per l'attenzione e spero domenica 13 di vedervi numerosi intanto vedo l'appuntamento per i prossimi contest da commentare insieme per landscape photography magazine un bacio a tutti e buon fine settimana 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 Grazie a tutti